Ci sarà battaglia per il piano dei rifiuti Umbria 2022, ci sarà una battaglia per scegliere e decidere il futuro dell'Umbria legato al mondo dei rifiuti, dalle discariche al termovalorizzatore a quelle che saranno le scelte fatte dalla Regione. E in questa settimana è stato un turbinio di discorsi, di prese di posizione, di dichiarazioni e, come dice l'assessore regionale Roberto Morroni, anche notizie false, anche le cosiddette fake news che non servono altro che a creare un certo disappunto, a creare un clima ostile, un clima difficile per poter andare tutti insieme alla discussione del piano regionale dei rifiuti. E allora quali sono, assessore, queste notizie false, queste fake news che stanno circolando? Ma è il tentativo di raffigurare le cose per quello che non sono. Sul piano dei rifiuti credo che la giunta regionale abbia dato un segnale molto importante alla comunità regionale. E il segnale è quello di dire iniziamo a prendere delle decisioni, poniamo fine ad una situazione di non governabilità del ciclo dei rifiuti dell'Umbria, quindi facciamo dei passi che da tempo dovevano essere fatti, per mille regioni non sono stati fatti, ma non è più possibile procrastinare una situazione di immobilismo e di inerzia. Arrivare al 75% di riciclo è un obiettivo difficile o è un obiettivo che la giunta T6 si pone? È un obiettivo certamente impegnativo ed è un numero che conferma un tratto fondamentale, caratterizzante del quadro complessivo che abbiamo offerto all'attenzione dell'opinione pubblica regionale, e cioè il piano di gestione integrale dei rifiuti dell'Umbria si caratterizza e si qualifica per un obiettivo che è quello del recupero, recupero di materie innanzitutto. Quindi portiamo la differenziata al 75%, che è un obiettivo impegnativo, noi oggi siamo al 66,2% come dato medio regionale, quindi ci manca un bel tratto di strada per arrivare al 75%, quindi questo testimonia la volontà di compiere uno sforzo importante, convinto, consapevole, perché abbiamo la certezza che lavorare in questa direzione sia un contributo più importante per assicurare una gestione efficiente del tema dei rifiuti, quindi recupero di materia. Vorrei far presente che la precedente programmazione regionale assegnava un obiettivo alla regione in termini di livello di differenziata, che era il 72,3%, e questo obiettivo lo si doveva conseguire nel 2018. Oggi, nel 2021, siamo al 66,2%. Quindi questa conferma del fatto che è un obiettivo impegnativo puntare al 75%, ma credo che sia anche la testimonianza di una volontà politica chiara, che è quella che anima l'impegno della giunta regionale. E poi recupero di energia, cioè la valorizzazione energetica in via residuale, cioè quello che si sta facendo nella parte più avanzata d'Europa, quindi centro e nord Europa, dove c'è l'uso della termovalorizzazione, cioè dove quella parte di rifiuti indifferenziale, che non è possibile o non è conveniente tirar fuori ancora materia, viene destinata al recupero energetico, alla valorizzazione energetica per produrre dai rifiuti calore ed energia. Quindi credo che sia un comportamento virtuoso, credo che sia un comportamento avanzato. E questo è quello che vogliamo fare ad un'umbria che da anni non decide. E quindi che cosa sta accadendo nella nostra regione? Sta accadendo che ogni anno portiamo una fetta importantissima di rifiuti urbani in discarica. Le discariche sono la peggiore prassi e questo ce lo dice anche l'Europa, ma non c'è bisogno poi che ce lo dica l'Europa. E allora noi abbiamo voluto accompagnare quello che era un, come dire, non una scelta, perché è una strada obbligata la cosiddetta riprofilatura delle discariche presenti nel nostro territorio. Quindi la costruzione di volumetrie aggiuntive per garantire la tenuta del sistema di gestione dei rifiuti in umbria. Ebbene questa prospettiva che era già scontata da anni, da anni, non certo nel periodo in cui governiamo noi, quindi da anni e tutti la conoscevano. Tranne chi vuole mettere la testa sotto la sabbia, tranne la schiera di demagoghi sempre pronti a tirar fuori la loro voce, e sono queste le fake news a cui mi riferivo, i demagoghi o gli smemorati o gli ipocriti. Ecco, credo che è una bella compagnia che non possa accompagnare l'Umbria verso un percorso di sviluppo. Ecco, noi vogliamo contrastare questo tipo di approccio, vogliamo dire le cose per quello che sono. La riprofilatura delle discariche era scontata da anni, perché abbiamo atteso il percorso di costruzione del piano, quindi il lavoro del comitato tecnico scientifico, perché abbiamo voluto accompagnare questa scelta ad un impegno solenne, ad un impegno rigoroso, e cioè quello di dire noi dobbiamo adesso creare volumetrie aggiuntive perché le discariche si stanno riempendo e la regione ha bisogno di avere un sistema di discariche per assicurare la tenuta del sistema. ci siamo, però, dato che non pensiamo che il futuro debba essere scandito dalle discariche e non solo perché questo lo vuole l'Europa, ma lo vogliamo anche noi, le discariche sono una prassi da sconfiggere, quindi in discarica ci deve andare una parte minimale di rifiuto, lo abbiamo detto, riprofiliamo, ma diciamo anche come questo percorso ormai lo vogliamo portare a compimento per dare alle discariche un ruolo residuale e quindi ci siamo dati un arco di tempo che è da qui al 2030, entro quella data noi vogliamo che l'Umbria porti in discarica meno del 10% dei propri rifiuti, oggi torno a dire portiamo una percentuale che oscilla dal 35 al 40%, quindi tanta roba, tanta roba, siamo lontanissimi dagli obiettivi che l'Europa ha sancito per il 2035, noi vogliamo raggiungerli entro il 2030, insieme all'indice di riciclo che vogliamo attestarlo al 65%, anche qui un obiettivo che l'Europa assegna a tutti gli Stati per il 2035, noi lo vogliamo conseguire entro il 2030. Grazie a tutti.